Carissime amiche e carissimi amici, benvenuti in questa nuova fase 1978-1979 del nostro appuntamento con Chewingham, sempre ospitato qui dal nostro studio televisivo coloratissimo, con tutti i ragazzi che anche oggi sono venuti qui a trovarci e a ballare con noi tutta la musica che vi proporremo. A questo proposito questa è tutta la musica che vi proporremo e parliamo brevemente, comunque prima di iniziare, di questa nuovissima fase, infatti ci sono dei cambiamenti, il primissimo riguarda la sigla, abbiamo sostituito quella vecchia non perché non ci piacesse più, semplicemente perché ogni tanto così ci va di cambiare con una nuova, il prodotto che nel risultato pensiamo sia un prodotto simpatico, altro cambiamento regista, infatti non abbiamo qui più Roberto Valentini perché se n'è andato, se n'è andato semplicemente perché doveva fare delle altre cose, non perché non si divertisse qui con noi. Comunque abbiamo un nuovo amico, a questo punto vorrei fare un applauso con l'amico che avete visto prima qui, prima della registrazione, Antonio Gerotto, che all'inizio è rimasto un po' perplesso, ha detto tutta gente sconvolta qui, poi invece si è anche divertito. Poi altra innovazione è quell'impalcatura luminosa, a partire dalla prossima settimana, settimana è un'altra cosa, comunque, dalla prossima settimana avremo i 5 motivi più ballati in discoteca naturalmente. Grazie 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 Grazie